cari amiche e cari amici di barba sofia benvenute benvenuti ad un nuovo appuntamento con platone e in modo particolare con i miti di platone oggi vi presenterò e vi analizzerò uno dei più celebri miti del platone della vecchiaia oggi vedremo insieme il celeberrimo mito del demiurgo mito contenuto nel dialogo intitolato il timeo il timeo è uno dei grandi e maestosi dialoghi della vecchiaia platonica ed è anche uno dei dialoghi maggiormente letti apprezzati dal mondo poi cristiano medievale e anche dal mondo poi umanista e rinascimentale il timeo dunque uno dei dialoghi più letti di platone dopo l'anno mille è uno dei dialoghi più letti perché contiene un'immensa conoscenza e sapienza antica perché nel timeo platone fa confluire cosmologie cosmogonie riflessioni astronomiche fisiche di tutto il mondo antico e dunque il timeo è anche una sorta di enciclopedia delle visioni cosmologiche antiche descritte con la solita sapienza e maestria tipica di platone in modo particolare oggi vedremo il mito del demiurgo contenuto proprio all'interno del timeo nel timeo platone vuole affrontare il tema dell'origine del cosmo dell'ordine del cosmo vuole affrontare la struttura del cosmo e per spiegarla ancora una volta ricorre al mito fertile razionale fecondo racconto propedeutico alla comprensione di una verità filosofica utile fecondo per comprendere una realtà complessa e dunque ancora una volta platone si affida al mito in questo caso ancora una volta platone ricorre ad un mito per bocca di ovviamente socrate e socrate che sta dialogando con timeo è un dialogo complesso è un dialogo molto molto articolato il timeo dunque delle opere anche più complicate della produzione di platone insieme al sofista al parmede al teteto noi oggi vedremo insieme il demiurgo e ancora una volta lo vedremo insieme a partire dalla lettura di un passaggio del timeo in modo particolare vedremo il mito leggendo proprio il testo del timeo in cui il mito viene presentato leggeremo integralmente il passaggio del mito ancora una cosa prima di iniziare questo dialogo questo mito sarà particolarmente apprezzato dal mondo cristiano perché ancora una volta compatibile con una visione religiosa e in modo particolare con la visione religiosa cristiana del mondo dunque il mito del demiurgo sarà preso e cristianizzato il mito del demiurgo entrerà dunque a pieno titolo nella cultura nella cultura nella cultura cristiana platone in questo dialogo in modo particolare costruirà un rapporto incredibilmente affascinante tra il mondo le leggi del cosmo e il mondo delle leggi dell'uomo la terra il mondo umano il mondo naturale sono uno specchio del cosmo delle leggi del cosmo ed è tutto intriso di numeri e di matematica sono i numeri sono la ma sono l'algebra la geometria e la matematica la chiave di volta del cosmo dunque questo dialogo è un dialogo estremamente intimamente pitagorico il timenon è il dialogo più pitagorico di platone e platone è stato un pitagorico convinto nella visione del cosmo del mondo del rapporto tra poi cose idee uomo natura il pitagorismo è appunto la chiave di volta per comprendere tutti questi aspetti all'interno del sistema filosofico del sistema ideologico di platone vediamo insieme il mito del demiurgo il dialogo è tra timeo e socrate prende la parola timeo sicché intorno a queste cose conviene accettare una favola verosimile né cercare più in là socrate molto bene o timeo e bisogna accettarla senz'altro come tu dici già abbiamo accolto il tuo preludio con molto diletto e ora seguitando fa che noi ascoltiamo il tuo canto e timeo prende la parola diciamo dunque per qualche cagione l'artefice il demiurgo fece la generazione e quest'universo egli era buono e in un buono nessuna invidia nasce mai per nessuna cosa i buoni dunque da questa volle che tutte le cose divenissero simili a lui quanto potevano se alcuno accetta questa dagli uomini prudenti come la principale cagione della generazione dell'universo l'accetta in modo rettamente perché dio volendo che tutte le cose fossero buone e per quant'era possibile nessuna cattiva prese dunque quanto c'era divisibile che non stava quieto ma si agitava sregolatamente disordatamente e lo ridusse dal disordine all'ordine giudicando quest'ultimo del tutto migliore di quello ora ne fu mai né lecito all'ottimo di fare se non la cosa più bella vediamo insieme questo primo passaggio in questo passaggio dialogando socre timeo affronta un racconto un canto armonioso soave e in questo canto questo racconto armonioso timeo ci presenta qual è stato l'origine qual è stata la nascita del cosmo qual è stata l'origine del cosmo come è sorto il cosmo il cosmo è sorto dall'azione del demiurgo l'artefice il demiurgo non è un creatore il demiurgo è l'artefice e il grande plasmatore dell'universo dopo vedremo come ha fatto a plasmare l'universo e il mondo ma la prima cosa che dovete sapere che la creazione non è presente dentro la prospettiva degli antichi greci e meno che mai nella prospettiva di platone il demiurgo è l'artefice il plasmatore il fabbricatore di mondi ma è un fabbricatore artefice che lavora su una materia ha plasmato la materia perché l'ha fatto ecco importantissimo platone ci dice per bocca di timeo dialogando con socrates che il timeo ha una caratteristica è buono il demiurgo per bontà ha plasmato l'universo in quanto buono ha plasmato le cose del mondo e da una natura buona non può che sorgere un effetto buono e dunque per bontà dal demiurgo è sorto il mondo e il mondo è sorto plasmato dall'azione del demiurgo dell'artefice buono e immune da invidia non è un demiurgo artefice dio intelligenza divina gelosa superba tanto meno rancorosa o portatrice di odio di vendetta sorge l'azione dell'artefice demiurgo del mondo da una natura buona e se noi uomini comprendiamo questo comprendiamo il perché il mondo è stato dunque plasmato dal demiurgo e per bontà che il demiurgo fabbrica non c'è un fine che non sia dentro l'essere buono non c'è uno scopo al di fuori della bontà non c'è una spinta al di fuori della bontà e la bontà a muovere l'azione del 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 demiurgo dio vuole buono che tutte le cose siano buone il demiurgo è un dio buono che vuole che tutte le cose siano buone e la bontà il motore dell'azione del demiurgo e la bontà scaratterizzerà la gira del demiurgo e pertanto la plasmare il fabbricare il regolamentare il mondo delle cose del demiurgo sarà improntato alla bontà e la bontà la cifra modale stilistica contenutistica del demiurgo dunque il demiurgo pone ordine alle cose è un ordinatore il demiurgo il demiurgo è colui che ha dato ordine al mondo dunque un grande ordinatore dell'universo e un'intelligenza qua c'è il chiaro ed esplicito riferimento platonico al nous di anassagora anassagora è per platone e per il fisico pluralista più amato punto di riferimento delle loro teorie proprio perché il demiurgo è più che mai intelligenza divina che plasma ordina il caos più che mai il demiurgo sarà ok quell'intelligenza che guida le cose le sostanze del mondo per aristotele perché dio per aristotele sarà pensiero di pensiero motore immobile che muove che cosa può essere forma senza essere materia atto senza essere potenza il pensiero e il rimando è appunto ad anassagora primo filosofo che calpesterà le strade di atene e dunque i due filosofi più celebri di atene platone aristotele anche se aristotele sarà sempre lo straniero giunto ad atene platone e sopra dei due atenesi per eccellenza si rifanno però ad anassagora il primo filosofo che appunto ha attraversato ha calpestato le strade di atene procediamo ragionando dunque trovò che delle cose naturalmente visibili se si considerano la loro interezza nessuna priva di intelligenza sarebbe stata mai più bella di un'altra che abbia intelligenza e che era impossibile che alcuna cosa avesse intelligenza senza anima per questo ragionamento componendo l'intelligenza dell'anima e l'anima del corpo fabbricò l'universo affinché l'opera da lui compiuta fosse la più bella secondo natura e la più buona che si potesse così dunque secondo ragione verosimile si deve dire che questo mondo è veramente un animale animato intelligente generato dalla provvidenza di dio questo è platone capite come sarà amato dai cristiani ma ci può anche slimes qua in futuro cosa ci dice qua platone platone ci dice che il demiurgo animato dalla bontà ha voluto dare al mondo un'anima bella un'anima buona le cose erano disordinate il demiurgo le ha ordinate le ha plasmate dando ad esse bontà bellezza un ordine dando ad esse proprio uno slancio di armonia e dunque ha cercato di plasmare il mondo nel modo più bello e buono in cui potesse con cui potesse farlo in cui potesse farlo ok nel modo più alto e buono e dunque un artefice architetto demiurgo plasmatore buono che instilla bontà che semina bellezza e armonia e le cose nel mondo sono state ordinate dal demiurgo e il mondo quando noi ci affacciando alla finestra al mattino e vediamo le nubi e vediamo il sole poi vediamo le stelle e la luna vediamo il ciclo vitae la vita e la morte sono così ordinate perché c'è un'armonia di fondo una struttura armonica che pitagora dice appunto essere numerica e che per platone sarà numerica adesso ci arrivo data però dall'azione del demiurgo ma oggi pandemie ma pandemie di oggi come quelle dell'epoca antica fanno parte del divenire del tutto ci direbbe platone sono quella bruttezza che fanno la bellezza sono l'altro lato della totalità di un'armonia che totale del vivere del morire del cambiare del trasformarsi in un equilibrio che per i greci non è mai dell'istante non è mai del momento non è mai della particolarità ma è della totalità noi forse stiamo vivendo un momento di disarmonia di disequilibrio e come tali siamo spaventati e per questo motivo siamo spaventati ma l'armonia di cui parlano i greci del tutto pensate e con ciò non voglio minimizzare è una tragedia è un immane problema un dramma pensate ci sono persone uomini aree geografiche che da secoli da decenni vivono nella carestia nella fame la miseria nella malattia cosa dovrebbero dire le persone che muoiono per polmonite che muoiono per influenza che muoiono per dissenteria in tante parti del mondo com'è il mondo per loro è cattivo noi lo conosciamo oggi magari cattivo perché c'è una pandemia il mondo è in equilibrio in armonia per platone nella totalità per la vita che nasce per la vita che si spegne per il ciclo per il ciclo che è un ciclo per platone nella totalità armonico ed è matematico il plasmatore del mondo il demiurgo l'artefice lo ha reso il più bello possibile lo ha reso appunto il migliore possibile e ha plasmato la necessità cosa aveva di fronte a sé il demiurgo aveva la cora la necessità la materia aveva ananche la materia necessaria era come era esattamente come è come è questa foglia di tabacco ma poi l'intervento esterno l'ha trasformata in un sigaro la foglia di tabacco è come è va bene la pietra è come è l'azione di uno scultore trasforma la pietra nella statua di Apollo l'azione del pittore trasforma la tela in un ritratto l'azione del demiurgo trasforma l'inanimata roccia trasforma l'inanimata e necessaria materia nel mondo delle cose del mondo dell'universo in un ordine matematico geometrico ecco la beltà del mito di platone andiamo la terza e ultima parte qui platone attraverso il dialogo sempre tra timeo e socrate ci spiega a cosa si è ispirato il demiurgo ogni artefice ogni pittore ogni architetto ogni orologiaio ogni fabbricatore ha un'idea per fabbricare a cosa si è ispirato l'artefice del mondo per fabbricare un mondo così bello e armonico così ordinato e matematico vediamo insieme posto ciò occorre che passiamo in seguito a dire assomiglianza di quale animale l'abbia fatto l'artefice certo non reputeremo che l'abbia fatto assomiglianza da alcuni di quelli che hanno forma di parte perché niente assomiglia a cosa imperfetta può mai essere bello ma lo porremmo somigliantissimo a quello del quale sono parte gli altri animali considerati singolarmente e nei loro generi perché quello ha dentro di sé compreso tutti gli animali intellegibili come quando questo mondo contiene noi e tutti gli altri animali visibili ed io volendo rassomigliare al più bello e il più compiutamente perfetto degli animali intellegibili compose un solo animale visibile che dentro di sé raccoglie tutti gli animali che gli sono naturalmente affini ma abbiamo detto noi rettamente che uno è il cielo oppure era più retto dire che sono molti infiniti uno è il cielo se è stato fatto secondo il modello perché non può essere secondo con un altro quello che comprende tutti gli animali intellegibili se no a sua volta si dovrebbe essere un altro animale e contenesse quei due che sarebbero sue parti e allora non già quei due ma quello che li contiene si direbbe più rettamente che questo mondo somigliasse affinché dunque questo mondo per essere solo fosse simile all'animale perfetto per questo il fattore non fece né due né infiniti mondi ma venne solo uno unigenito e generato cielo e ancora vi sarà sublime 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 nel modo anche di scrivere Platone questo mondo è un animale è un animale unico bello armonico ma questo animale che ha generato plasmando la materia cora necessaria anche il demiurgo questo mondo a che cosa somiglia quando un artefice un plasmatore un fabbricatore plasma costruisce fabbrica si ispira un modello il modello è un animale tra quelli che vi è qui no perché l'animale mondo è un animale che contiene tutti gli altri animali dunque deve essere così di perfetto e qua non c'è tigre pantera leopardo formica elefante maiale cane gatto pesce aquila che possa somigliare alla perfezione la perfezione è l'insieme di tutti gli animali intregibili uomini compresi e dunque il demiurgo ha guardato la perfezione ha guardato il bello ha guardato al mondo delle idee il demiurgo con le mani è un'intelligenza che agisce con le mani ha plasmato il mondo ma con il suo intelletto ha guardato la perfezione cioè il mondo delle idee dunque il demiurgo è un'intelligenza che plasma la materia cora necessaria anche guardando avendo come modello la perfezione ideale matematica la perfezione ideale il bello il giusto l'armonia e ha generato dunque plasmando il tutto un mondo animale unico e perfetto perché unico perché se non fosse unico ci si chiederebbe il rapporto con l'altro mondo e il secondo mondo quale mondo assomiglierebbe a un terzo mondo il terzo mondo quale mondo assomiglierebbe al quarto mondo il quarto mondo quale mondo assomiglierebbe al quinto mondo il quinto mondo così il terzo uomo all'infinito l'idea dell'idea 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 deve esistere un mondo unico unico cielo che è lo specchio del mondo dell'idea perfetto che il demiurgo ha osservato nel plasmare nel generale plasmando il nostro mondo il nostro mondo unico generato dall'osservare il mondo perfetto il nostro un unico cielo sotto cui c'è tutto il mondo l'universo e questo mondo è sto plasmato da un'intelligenza buona che aveva anche un'altra caratteristica la volontà intelligente volontà buona le tre caratteristiche poi cristiani attribuiranno più che mai a dio dunque il demiurgo può essere traslato nella prospettiva cristiana ma c'è una grande diversità di fondo il cristianesimo è un dio che crea dal nulla nel nulla platone ci racconta un mito in cui il demiurgo plasma ciò che c'è già la materia necessaria perché il nulla non esiste il nulla non è la materia è diversa dalla perfezione la materia è diversa dal mondo il diverso esiste il nulla no platone che già compiuto il parmenicidio ci dice che il diverso non è non essere il non essere una forma diversa di essere e dunque la materia è diversa da quella che sarà in seguito alla plasmazione all'attività plasmatrice del demiurgo ma la materia c'è non c'è nulla dunque il demiurgo lavora sul nulla il demiurgo plasma il demiurgo il demiurgo non lavora sul nulla il demiurgo plasma ciò che c'è il demiurgo non ha il nulla come prospettiva il demiurgo agisce sulla materia che c'è la plasma la eleva il più vicino possibile alla perfezione del mondo ideale la eleva la bellezza la giustizia il triangolo il rettangolo il paralismo all'angolo alla sfera e eleva questo mondo al mondo migliore più bello che ci possa essere e le cose brutte del mondo risiedono nella zona del demiurgo no risiedono nel mondo l'idea no ma nella caducità nel limite della materia la colpa è della materia la colpa è di ciò che è fatto di materia la natura e l'uomo anche questo aspetto può essere cristianizzabile la colpa del male del mondo non è dio ma è nella natura covid 19 lo stesso o è nell'uomo l'omicida il lager lo sterminio ci sono mali naturali e mali artificiali o c'è la catena alimentare tutto questo a parte della natura non nella volontà del demiurgo la volontà del demiurgo è buona il demiurgo è volontà intelligenza e bontà volontà intelligenza bontà di plasmare questo mondo nel modo migliore possibile questo è il mito del demiurgo che attraverserà i millenni cavalcato e cavalcando il cristianesimo cavalcato dal cristianesimo e cavalcando il cristianesimo è un mito che attraversa poi la letteratura la pittura l'architettura è un mito che possiamo ritrovare nei romanzi di fantascienza di asimo il problema di un dio buono di un fabbricatore di un orologiaio attraverso i deisti gli illuministi è un mito fertile fecondo come quasi sempre lo sono i miti di platone buona filosofia a tutti ci vediamo nei prossimi giorni con la metafisica di aristotele